Riprendiamo il discorso sulle liste occupandoci della stampa di una lista. Vediamolo prima con il grafico. Dovremo portare un puntatore in corrispondenza di ciascun nodo, quindi avere primo puntatore al primo nodo della lista, stamparlo, poi spostarlo seguendo Next sul secondo nodo e poi spostarlo sull'ultimo nodo. Ed è qui che ci accorgeremo che non ce ne sono altri, curiosando il Next e scoprendo che è Null Pointer. E se lo facessimo direttamente nel Main, dovremmo stare molto attenti a non usare IL per spostarci sulla lista, perderemo l'inizio. Ma se chiameremo una funzione passando IL per valore, in realtà staremo lavorando su una copia. E allora potremo cambiare IL in IL Next e poi ancora in Next e così via. Vediamo. Ecco la struttura vuota della funzione. passiamo IL ma senza la e-commerciale. IL, puntatore a calciatore, arriva a questa funzione passata per valore. È quindi una copia dell'IL del Main. Possiamo cambiare il valore di questo IL senza problemi, altrimenti avremmo dovuto copiarcelo prima in un puntatore secondario. Qui invece lavoriamo direttamente con IL. E andremo avanti finché ci accorgeremo che IL è finito su un nodo il cui Next è Null Pointer. Quindi noi andiamo avanti finché IL sarà diverso da Null Pointer in pratica. Perché immaginate che cosa succede. Si comincia, IL è qui. IL è diverso da Null Pointer. Beh, certo, sta puntando al primo nodo che esiste, quindi ha un valore di Best Null Pointer. A meno che la lista sia vuota. Se la lista fosse vuota, il ciclo while non partirebbe neppure, perché la condizione del while sarebbe subito falsa. while IL è diverso da Null Pointer. Eh no, lo è già uguale. Il while, giustamente, non partirebbe neppure. Altrimenti si procederà a stampare col valore di IL il cognome, i golfatti, quello che volete, mi limito al cognome per brevità, IL freccia cognome. Quindi se siamo nel ciclo while, è perché IL è su un nodo che davvero esiste, stampiamo IL freccia cognome e poi dobbiamo spostarci al nodo successivo. IL, che adesso è qui, deve diventare una copia di questo puntatore per accedere al secondo nodo. IL deve diventare uguale a IL Next. IL diventa, sfrutto ancora IL, non ho ancora cambiato, quindi va bene usarlo qua a destra dell'assegnamento. Lo uso per accedere al Next del nodo da lui stesso puntato. Abbiamo spostato IL in corrispondenza del nodo successivo. E il ciclo può ripetersi. Andiamo a ragionare. IL come è diventato? Null Pointer no. Allora vuol dire che c'è ancora un nodo da stampare. Bene. Benone stampa Next cognome. Poi, di nuovo, il ciclo sposterà IL al Next di questo secondo nodo. Finiremo qui. In corrispondenza del terzo. IL com'è? Diverso da Null Pointer, certo. Il nodo c'è. Stampiamo cognome 3. Ultimo aggiornamento di IL. Infatti, l'istruzione IL assegna IL Next farà diventare IL uguale a Next dell'ultimo nodo, cioè diventerà uguale a Null Pointer. E quindi il ciclo while terminerà. Non rimane che provare. Cancelliamo questo. Beh, lo lascio come riferimento. E invochiamo la stampa. Proviamo con tre nodi, dai. Stop. Ed ecco i tre nodi. Notate l'ordine inverso all'inserimento. Con l'inserimento in testa stiamo implementando effettivamente un meccanismo LIFO LAST IN l'ultimo inserito FIRST OUT è il primo che viene ripreso quando andiamo a scorrere dalla testa quantomeno la lista. Il meccanismo generale della stampa ci avvicina parecchio alle istruzioni che dovremo implementare per inserire invece i nodi in fondo cioè in coda la lista. Per farlo abbiamo bisogno di modificare il NEXT di quello che al momento è l'ultimo della lista e che contiene valore NULL POINTER giustamente non punta nulla e dagli invece l'indirizzo del nuovo. Quell'assignamento corrisponderebbe infatti a far puntare quello che dopo sarà il penultimo nodo qui alla catena se adesso ha aggiunto questo nuovo anello. Da notare che avendo previsto come default per il NEXT NULL POINTER qui ha già il valore che dovrebbe avere NULL POINTER poi questo se ne andrà nel dimenticatoio e la lista è nello stato finale che volevamo abbiamo aggiunto in coda un nuovo nodo quando saremo qui con un puntatore l'operazione sarà completata molto facilmente però prima dovremo avere un puntatore su questo nodo così quando avremo un puntatore qui allora potremo scrivere questo puntatore freccia NEXT e dargli come valore il nuovo in questo senso l'inserimento in testa ha in sé una parte della stampa perché vorrà dire navigare dall'inizio e spostarci fino sull'ultimo però dovremo fermarci rispetto a una stampa un colpo prima la stampa lo abbiamo appena visto si ferma quando il puntatore che stiamo usando per navigare da un nodo all'altro diventa uguale al NEXT dell'ultimo nodo lo avremmo superato l'ultimo nodo il puntatore infatti sarebbe uguale a NULL POINTER e non punterebbe all'ultimo nodo come servirebbe a noi il trucco è fermarsi quando il puntatore è arrivato sul nodo il cui NEXT è NULL POINTER scriviamo la funzione qui se coda forse qualcuno starà pensando ma perché forse è andato di copia in colla automatico senza pensare bene il prof perché ha indicato per indirizzo IL e se dobbiamo inserire in coda IL non cambia rimane sempre qui vi state dimenticando in particolare la lista non è che nasce già fatta nasce vuota quindi il primo inserimento in coda sarà fatto quando la lista è in questo stato e un inserimento in coda è identico all'inserimento in testa e comunque quegli L va cambiato dovrà contenere l'indirizzo del nuovo nodo e perché questa modifica sia permanente quando ritorneremo nel main dovremo passare IL anche in questo caso per indirizzo non solo ci accorgeremo che le istruzioni che vanno bene per un inserimento in coda quando la lista non è vuota combinerebbero un disastro in questa situazione dovremo farci il famoso domandone e se la lista fosse vuota vanno ancora bene no e allora dovremo gestire con un if e un else in pratica quando la lista è vuota dovremo scrivere le stesse istruzioni dell'inserimento in testa tant'è che potremmo chiamare la funzione che abbiamo già di inserimento in testa in fondo quando la lista è vuota inserire in coda in testa cosa cambia nulla ecco il codice come anticipato bisogna distinguere se la lista è vuota facciamo così o riscrivendo le stesse istruzioni che abbiamo messo per l'inserimento in testa oppure richiamando la funzione stessa l'inserimento in testa passando lo stesso IL di inizio lista e lo stesso puntatore al nuovo nodo questo perché se invece eseguissimo sempre queste che vanno bene quando la lista non è vuota sarebbe un disastro perché qui si inizia impostando in un puntatore temporaneo il punto di inizio così poi potremo spostare quel temp in avanti sugli altri nodi senza fare modifiche per indirizzo alle al del main d'accordo ma guardate questo guai inizia a controllare se temp freccia next è diverso nel pointer ma se la lista è vuota IL è null pointer temp diventa quindi null pointer e qua staremo tentando null pointer freccia che manderebbe in crash il programma tentativa di usare un puntatore che non sta puntando proprio a nulla ecco perché dobbiamo gestire il caso IL uguale null pointer in modo separato l'algoritmo prosegue tipo la stampa ma fermandosi un colpo prima ci fermiamo quando siamo su un nodo il qui next è null pointer cioè si va avanti fin tanto che è vero che il temp.next è diverso da null pointer non siamo ancora in fondo e allora spostiamoci al prossimo nodo temp diventa temp.next e adesso punta al nodo successivo quando saremo sull'ultimo nodo questa condizione non sarà più vera perché il temp.next sarà invece proprio null pointer si esce non rimarrà che agganciare al next come abbiamo visto prima col temp siamo qui sull'ultimo nodo il suo next che era null pointer gli assegniamo invece il valore di nuovo agganciando in fondo il nuovo nodo le c.next segna nuovo e abbiamo finito mettiamo il tutto alla prova torniamo nel main e basta sostituire qui dove si comandava in testa mettere coda questa volta inserendo 1,2,3 il 2 sarà inserito dopo l'1 in coda il 3 dopo il 2 la stampa produrrà diciamo l'ordine naturale emulando un meccanismo FIFO first in first out il primo ad essere stato inserito sarà anche il primo ad essere estratto quando sempre si comincia la testa 1,2,3 l'eliminazione di un nodo qualunque dalla lista indicando un criterio che individui il nodo eliminare è un po' più complicato di un livello di sufficienza quindi lo lasciamo perdere ben più semplici invece i casi particolari come eliminare il primo nodo o l'ultimo nodo beh cioè l'ultimo non è poi così facile poi vediamo direi di vedere in sequenza prima come eliminare il nodo in testa poi come distruggere tutta la lista eliminarli tutti e teniamo per ultimo l'eliminazione dell'ultimo che è un pochino più intricata ecco allora l'elimina in testa ormai dovreste riuscire a seguirla abbastanza agilmente togliendo dalla testa andremo per forza a modificare il valore in modo permanente di IL ecco il solito passaggio per indirizzo vediamolo prima con il grafico dobbiamo togliere il primo nodo prima lo agganciamo con un puntatore temporaneo è tramite questo che comanderemo il delete dopo che avremo però spostato IL intanto che abbiamo ancora il valore di questo next altrimenti ci perderemo tutto il resto della lista dicevo dopo aver spostato IL qui basterà copiarmi IL il valore di IL next o temp next una volta che l'ho fatto appuntare anche lui il primo nodo è equivalente ora che abbiamo agganciato con sicurezza il resto della lista possiamo anche fare il delete di questo e rimarremo così primo nodo eliminato vediamolo ora col codice se la lista non è vuota altrimenti rischieremo di cancellare qualcosa che non c'è agganciamo il primo nodo con un puntatore temporaneo per poi cancellarlo spostiamo in avanti IL intanto che abbiamo ancora a disposizione il suo freccia next e poi cancelliamo temp tocco ora la distruzione di tutta la lista dovremo farlo però un nodo alla volta l'ingenuità di comandare un delete IL avrebbe come conseguenza solo la dellocazione di questo elemento e tutti gli altri poi non riusciremo più a beccarli perché avremmo perso proprio tutto anche il next che porta secondo nodo e quindi poi non avremo né il terzo né tutti gli altri risultato avremo cancellato solo il primo nodo e tutti gli altri rimarranno occupare indebitamente la RAM irraggiungibili non un gran risultato la procedura corretta prevede invece partiamo con IL mettiamo un puntatore temporaneo al nodo puntato da IL ci servirà per comandare il delete su quel nodo adesso potremo spostare IL sul secondo e cancellare questo qua senza problemi tanto IL ci permetterà poi di continuare delete temp e poi andiamo avanti il tutto si traduce in un ciclo questo e si passa per indirizzo IL perché alla fine vorremmo modificare il suo valore ci dovrà essere null pointer che è quello che succederà perché questo ciclo Y va avanti sposti in avanti IL finché non sarà diventato uguale null pointer se non lo è si entra ad eseguire la cancellazione prima ci salviamo il valore che ha in questo momento IL per poter poi cancellare quel nodo spostiamo in avanti IL a IL assegniamo IL freccia next cancelliamo temp e si ripete testiamo il tutto dopo la prima stampa distruggiamo la lista e tentiamo di ristamparla e non dovrà essere stampato nulla ci siamo prima stampa e poi basta ok l'eliminazione dell'ultimo nodo richiede qualche attenzione in più infatti dovremo portare se c'è perché potrebbe non esserci un puntatore ausiliario il solito temp sul nodo che precede quello da cancellare cioè che precede l'ultimo sul penultimo perché la cancellazione da qui potrà essere comandata senza problemi chiedendo il delete di questo puntatore delete questo temp next perché se fossimo già qui potremmo certamente fare il delete del nodo ma non sapremmo come mettere null ptr questo perché l'avremmo già lasciato alle spalle ed è un problema perché poi non sapremmo più come trovare la fine della lista perché questo nodo non sarebbe null ptr ci scombinerebbe tutto ok quindi qui ma dovremo trattare due casi particolari vabbè quello in cui la lista è vuota in cui non dovremo fare nulla d'accordo ma anche quello in cui la lista è formata da un solo nodo perché se è formata da un solo nodo non c'è uno che precede l'altro da cancellare e il test che faremo per spostarci per trovare il penultimo nodo prevede di fare un controllo sul next next cioè noi siamo qui e ci fermiamo perché vediamo che temp next next è null pointer e allora vuol dire che siamo sul penultimo nodo ma se la lista è formata soltanto da un nodo significa che questo qui è null ptr non c'è un next next c'è soltanto un next che è null ptr a livello di codice questo si traduce così intanto si procede a fare qualunque cosa soltanto se il è diverso da null pointer altrimenti è vuota non dobbiamo fare nulla se non è vuota andiamo a controllare se per caso è formata da un solo nodo se è così significa che c'è il che punta a quell'unico nodo e poi il next è già null pointer dobbiamo cancellare quell'unico nodo deleti il direttamente nessun problema non c'è nulla che si perda cancellando l'unico nodo e poi si mette il null pointer altrimenti se siamo qui vuol dire che ci sono almeno due nodi due ci sono partiamo col temporaneo dall'inizio della lista ecco qua il controllo che non va in tilt perché so che ci sono almeno due nodi e per caso il next next andando avanti a controllare diverso null pointer allora vuol dire che ce ne sono almeno tre di nodi spostiamoci avanti di uno e così via quando arriviamo sul penultimo temp quindi individua il penultimo nodo questo va sull'ultimo nodo con next e guardando di quello ancora il next lo troveremo null pointer la condizione diventerà falsa si esce con temp che sta puntando al penultimo nodo e il temp freccia next è quindi il puntatore all'ultimo quello che vogliamo cancellare da cui delete temp next poi qui lo possiamo fare bisogna rendere ultimo il penultimo nodo e lo facciamo assegnando al suo next il null pointer e abbiamo finito anche col video e con la parte sulle liste concatenate non aggiungo esercizi perché a scuola abbiamo deciso di tenere solo per i voti molto alti eventuali parti da svolgere in una verifica scritta in un laboratorio tutta questa parte per gli altri invece sarà oggetto di verifica durante un orale dove avrà un senso chiedere e ragionare anche su questi algoritmi di base tutt'altro che banali dal prossimo video ci occuperemo di una parte importantissima della programmazione e cioè la object oriented programming OOP a risentirci a risentirci Grazie.